Allora mister, complimenti ancora una volta da parte nostra, ottavo risultato utile e consecutivo, questa squadra trova sempre di più una propria fissionomia e si quadra sempre di più, potremmo quindi dire la nostra in questo campionato? Sicuramente, noi l'abbiamo detto anche in termini non sospetti, cerchiamo di migliorare di giorno dopo giorno, consapevoli dei nostri mezzi, la consapevolezza viene dal risultato, oggi è avuto il risultato e quindi aumenta anche la consapevolezza, io dico che il Gironi di Torno avvalora i risultati e l'impegno di questi ragazzi, perché il Gironi di Torno come cominciate a vedere è tutta altra squadra, il Nola per l'amor di Dio se non volete fare affronti del ritorno non è il Nola dell'andata, il Carane che incontreremo non è il Carane dell'andata, purtroppo è il Marcianisi del ritorno, non è il Marcianisi dell'andata, quindi è un altro campionato e che comincia noi cerchiamo, ripeto, di migliorare sempre e prenderci e dare qualche soddisfazione. Ho visto una presenza di pubblico sparuta in più, anche se sono avuto pochi, mi auguro che questi pochi sono contenti, sono rimasti contenti. Come dicevamo prima, il Marcianisi è una città che vive di entusiasmo, quindi quando arrivano i risultati positivi sicuramente ritorneranno anche i tifosi, è una città fatta così. Magari un buon risultato domenica a Carano, potremo avere veramente tanta gente contro i Gladiator. Ma sì, noi adesso ci godiamo questa vittoria perché è la quarta in casa che facciamo, insomma, quindi su sei, quindi siamo, pregio è una sconfitta con Savoia, siamo contenti che perlomeno in casa riusciamo a imporre quello che è il nostro gioco in una gara difficile oggi per come è cominciata. Fare gol subito e prenderlo subito può anche tagliare le gambe. Invece i ragazzi hanno reagito bene, hanno fatto il secondo gol e poi è chiaro che c'è un ritorno dell'avversario che si butta così avanti alla ricerca, insomma, dei risultati e ti crea qualche difficoltà. Però la squadra oggi è stata attenta, è stata furba, è stata scalta, è stata intelligente a non subire e a cercare il terzo gol più volte in contropiede. Andremo sicuramente a Carano con una squadra a completo, oggi è ritornato anche Tufano e si è visto subito in quei minuti che ha giocato che la squadra ha respirato un poco di più al centrocampo e abbiamo visto poi anche nell'ultima fase Pagliuca e Rossi insieme, è una coppia che può coesistere e può dar fastidio anche a Carano domenica? Ma io credo che non gioca molti e tre attaccanti sempre, quindi Rossi è uno di quattro attaccanti esperti, esterno può giocare dovunque, ha già fatto anche per un periodo della punta centrale per l'esigenza, si è adattato bene, insomma, ci ha fatto qualche gol, oggi anche sul rigore ma si è provocato, l'ha mancato più di una volta, quindi il fiuto del gol, Rossi c'è mancato in questo periodo e sicuramente ci ritornerà utile non solo domenica ma in tutto il procedimento del campionato. Bene, Ministro, l'appuntamento è in settimana per preparare i ragazzi e per fare questa trasferta contro il Carano. Solo un'ultima domanda, lei crede che il Presidente, il segnale che è dato oggi per l'ingresso di gratuiti è una cosa che ripeterà, quindi noi possiamo magari dire ai nostri tifosi che questa è una cosa che andrà avanti ancora per parecchio o crede che sia stata solo una cosa sporadica di oggi? Qualsiasi cosa dicessi potrei sbagliare e lui appunto dovrebbe dare una risposta scontata, però io non voglio fare il diploma, mi auguro che il Presidente col Carano, col Gladiator possa continuare questo rapporto di riavvicinamento con il pubblico di Marcianese e lasciare ancora le porte aperte. Felice Edanna, oggi un'ottima prestazione contro Enola e gran pela assist per il gol. Sì, oggi è stata una prova di tutta la squadra, veramente eccezionale, rispetto alle ultime gare siamo riusciti anche a trovare più facilmente la via del gol, le abbiamo fatti tre, hanno segnato i nostri tre attaccanti rappresentativi, quindi il gruppo è veramente contento perché meritavamo questa soddisfazione dopo tanto lavoro, perché noi in settimana ci alleniamo veramente nel migliore dei modi, sempre a seguire il mister, quindi è una soddisfazione che meritavamo. Poi anche io personalmente sono veramente soddisfatto oggi, è stata una bella prestazione, peccato che secondo me c'era un'espulsione su di me net, mi ha fatto abbastanza male, però non fa niente, l'importante è che andrà tutto bene e che Peppe poi ha fatto il terzo gol decisivo. Bene, quindi prenotiamo già una maglia da titolare per domenica contro il Carano. Questo tocca al mister dirlo, però penso sia stata una buona prestazione, un buon segnale per tutti e per l'allenatore per confermarmi. Bene, un ringraziamento a Felice e l'appuntamento alla prossima.